Capito, ribadisco il concetto, anche se a premiamo sono stati Aldo Domani e Giacomo, che non c'entrano niente con la musica, Ligabue, Luciano! Momento, momento, scusate, capisco, giù dal palco, momento, lo voglio sequestrare, a parte quando mi ricapita questa occasione. Allora no, capisco che non è nel regolamento, io devo chiedervi una cosa da tanto tempo, ne approfitto. Siccome siamo un gruppo di amiche, che abbiamo come ino ufficiale una tua canzone, scusate, è una cosa intima, ma me lo permette? Diretta, non c'è problema. Il programma è anche mio, piccola stella senza cielo, tuo pezzo, eccetera, che un po' il nostro ino noi ci identifichiamo, facciamo bene, sbagliamo, abbiamo capito la canzone. Vorrei un... questa piccola stella è una donna che dovrebbe essere amata di più? Fate bene comunque, in ogni caso, perché l'interpretazione deve essere sempre soggettiva. Ecco. Però diciamo che è una canzone ingenua, su quanto l'ingenuità effettivamente sia un lusso che ci possiamo poco concedere, e quindi è la storia di una che effettivamente aveva tutte queste caratteristiche. Ma va bene, sono contenta. Grazie, Luciano. Così sequestro, può andare, grazie. Grazie a stare. Ciao, complimenti. Allora. La preiezione si fa però con la consegna ufficiale del PIM, perché il PIM, Premio Italiano della Musica, è anche una cosa che ha una forma un po' strana. Voi adesso non ridete quando la vedete, però era difficile mettere insieme i due simboli di musica e di radio DJ. Comunque, a consegnare questo premio c'è un personaggio che in questo modo ribadisce uno dei concetti della serata, cioè che l'importante è esserci, visto che lui in questo caso era anche un tuo avversario, visto che aveva la nomination come altro tour importante. Giovanotti! Questo è un momento di grande spettacolo, devo dire. Lorenzo! Tu che sicuramente lo sai fare meglio di me, intervista di Gabù, e dai. Allora, io credo che... Ma le camera sono quelle. No, ah, di là, perché è il contrario. E allora io penso che oggi un concerto sia una delle ultime rappresentazioni del sacro che esistono in Occidente. Io sono venuto al tuo concerto a San Siro e ho subito una trasformazione, che è quello che succede ai grandi concerti. Ovvero, dopo il tuo concerto ho pensato che il mondo fosse un posto veramente dove vale la pena di vivere e che le cose possono essere cambiate. Ma tu ti rendevi conto di questo mentre facevi il concerto? Ti ringrazio, credo che sia il momento di cambiare il tuo fornitore ufficiale di sostanze. Ero completamente fatto di acqua minerale, come al solito, come al solito. No, Lorenzo, era chiaramente una battuta. Ti ringrazio, sei molto... sei stato veramente molto carino. No, e credo che sia una cosa effettivamente troppo grossa quella che hai detto. Io credo che i concerti vanno vissuti effettivamente come una possibilità di una cosa che si svolge facendo in modo che l'emozione fluisca senza filtri quali, televisione e altro genere. Devo dire che lì si arriva un po' alla prova dei conti. Mi piace l'idea che la prova dei conti sia frontale, senza troppi filtri, senza troppi aggeggi, senza troppi strumenti. Sono molto contento delle cose che mi hai detto. Grazie per lo spazio di te. Lasciatevi. Allora, siccome i fotografi stanno richiedendo a gran voce una fotografia da fare insieme, la facciamo mentre vediamo un pezzetto del concerto di San Siro del 28 e 29 giugno. Sono qui a cantare dal vivo gli articoli 31.